Siamo qui a Romics 2015 con Thor Esatto, il dio del tuono e figlio di Odino Figlio di Odino, complimenti, è un bellissimo cosplay Anche il martello Grazie Come l'hai? Allora, il martello l'abbiamo comprato, è l'unica cosa del costume che ha comprato È una riproduzione Il resto l'avete fatto voi? L'ha fatto noi, abbiamo impiegato sei mesi per fare il costume Sei mesi per fare il costume, inquadriamo, lo regia Thor, dimmi se sbaglio, fa parte anche lui degli Avengers Come no, adesso ovviamente esce il secondo film degli Avengers Il 22 aprile, io ovviamente già ho il posto prenotato The Age of Ultron, giusto? Esattamente Esattamente No, no, sì, sì, è nostra, grazie Grazie E poi qui invece abbiamo un altro personaggio Che è praticamente Lady Sif di Darkward Sempre Thor, Darkward Bene, vogliamo descrivere un po' il tuo, c'è lo scudo Anche noi abbiamo fatto praticamente tutto da soli Questa è la spada, caratteristica sgardiana Questa è cuoio, no? Questa è pelle, ecopelle Poi questo qui è una sorta di smerlettatura Questo qui è tutto foam, fatta tutto in foam, ecopelle Questo qui anche foam, come è che si chiama l'altro materiale, non mi ricordo mai Vabbè comunque Forex è la parte interna che è più rigida Molto bello, anche gli stivali, no? Anche gli stivali, tutto fatto in foam Oggi è una giornata molto bella Troppo calda pure Troppo calda per i nostri, soprattutto per me È bello pesante Io preferisco dei climi più freddi Io in particolare ancora più freddi Perché con l'armatura che c'è ovviamente Comunque complimenti Allora, vi riprendiamo mentre voi piano piano vi allontanate Grazie a tutti, vogliamo dire anche il vostro nome Giulio Erika Grazie, grazie a Giulio e a Erika A presto Grazie a tutti